Si è tenuta nella chiesa del Volto Santo ai Ponti Rossi la cerimonia per la festività di San Sebastiano, patrono della polizia locale. La messa è stata ufficiata dal cardinale di Napoli Crescenzio Sepe alla presenza di numerose autorità civili e militari ed ha visto la partecipazione di centinaia di agenti che operano sul territorio diretti dal comandante Ciro Esposito. Abbiamo oltre 42 compiti che svolgiamo e questo è un attimo il momento del tirare le somme delle valutazioni dell'anno che è appena trascorso con le cose buone e le cose meno buone che ci hanno accompagnato. Ovviamente sono molti quelli che ci hanno lasciato perché in quescenza o perché sono andati oppure sono morti in servizio e abbiamo però di nuovi colleghi che sono stati assunti a dicembre di quest'anno. E' una ripresa questa di quando l'anno scorso abbiamo fatto il Giubileo e quindi si è visto che trovare un momento di riflessione anche di preghiera su quello che è il senso della propria professione, questo aiuta tutti, aiuta naturalmente tutti loro ma nello stesso tempo ridonda vantaggio anche degli altri e allora soprattutto un messaggio di speranza. La celebrazione cui hanno preso parte anche gli ultimi vigili assunti per scorrimento di graduatoria da fine anno si è conclusa con la consegna degli attestati di merito agli agenti che si sono particolarmente distinti in operazioni di contrasto all'illegalità. E' anche l'occasione per portare il ringraziamento al corpo della polizia municipale per il lavoro difficile che fa in una città difficile ed è anche l'occasione per chiedere al governo di rafforzare le polizie municipali d'Italia lo dico anche come delegato alla legalità e alla sicurezza del Lanci non si può da un lato attribuire più responsabilità ai sindaci e poi non dargli i poteri necessari quindi rimpinguare e rafforzare gli organici, considerare a pieno titolo la polizia locale come elemento nazionale della sicurezza e quindi ad esempio poter accedere alle banche dati e tanto altro che ancora manca a loro. Poi a Napoli il comandante lo sa, le donne e gli uomini della polizia municipale lo sanno ci dobbiamo sempre migliorare ogni giorno come lo chiediamo a noi giunta, assessori, consiglieri, maggioranza, società partecipate così anche dalla polizia municipale i cittadini tutti, i turisti, gli abitanti di Napoli si aspettano sempre il massimo impegno possibile perché sono la prima linea dell'amministrazione comunale per strada.